Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro, venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose. In questa breve frase l'Evangelista ci offre un flash di singolare intensità, fotografando gli occhi e gli occhi che non hanno pastore e si mise a insegnare loro molte cose. In questa breve frase l'Evangelista ci offre un flash di singolare intensità, fotografando gli occhi del Divino Maestro e il suo insegnamento. Osserviamo tre verbi di questo fotogramma vedere, avere compassione, insegnare. Li possiamo chiamare i verbi del pastore. Lo sguardo di Gesù non è uno sguardo neutro, o peggio, freddo e distaccato, perché Gesù guarda sempre con gli occhi del cuore. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.